quando mai ti capita più una cosa del genere guarda dove l'ho messo la crema adesso spagno anche quella gliel'hai messa la pelle dai uno a uno via è un momento difficile per la nostra puntata vedete stronze e stronzi che si smergono guarda che belli le pelle è piccicato lui sa già come sfruttare la suite abbiamo già decido la dividiamo tutti insieme più o meno io avrei anche una che a partecipare a chi con lui o un guest star ormai siamo abituati ah giusto buongiorno non ti preoccupare della mia pelle perché la vediamo qui sono emozionata però si allora allora quest'anno io non voglio fare nessun tipo di commento zero non voglio fare nessun tipo di commento perché queste zozzone non sono proprio da commentare queste luride queste zozze bigliacche assassine io invece vorrei fare un solo commento che dovrebbe riassumere simultaneamente tutta la situazione maggiartela mi spacco una cabiglia vi chiedo dammi eh vai a vedere il tacco che non si vede il commento più saggio è quello di Giba fammi pure le domande che vuoi no ma io so che è un commento su questa situazione su questa situazione tipo prendi questa situazione o questa situazione in generale anche su di lei mangi i tacchi ma si vede adesso ma si vede adesso no manca c'è una maglietta dica lui no non lo lascia voglio una maglietta voglio coprirmi cosa volete che vi dica mancata ma esattamente silenzio occhio 3 2 1 uuuhh che sguido